Ok, accetto. Ecco qua. Bene. Buonasera Andrea Mosconi, ben trovato. Ciao a te e a quelli che ascolteranno queste breve conversazioni. Allora, la prima domanda riguarda il tuo seminario che prossimamente farai per il CMTF. Riguarda una riflessione. Tu hai impiegato tante energie per manualizzare la terapia sistemica e le idee di Milano Approach. Ci dici qualcosa? Sì, volentieri e anzi ti ringrazio di avermi proposto questo seminario e spero che sarà interessante per quelli con cui lavoreremo, insomma, che sentiranno. Noi con cui lavoreremo. Sì, l'idea del quadrilatero sistemico che di per sé è un po' un paradosso in sé perché il sistemico è sempre circolare. Allora, questa idea del quadrilatero è un nome che mi è venuto più in analogia al triangolo perverso. Ho detto come c'è il triangolo perverso, facciamo il quadrilatero sistemico. Quindi qualcosa delle metafore, delle metafore spaziali. Il nome è qualcosa a che fare con la sistemica. Dopo mi era venuto in mente anche di chiamarlo il grande cerchio della vita, diciamo così. Ma in sostanza riunisce quattro livelli di lettura dell'interazione umana che sono stati percorsi dall'ottica sistemica e su cui andremo e sarà la prima parte del seminario e far capire la storia anche da cui è nata la storia. È una storia di clinica nel senso che nel tutto il lavoro di quasi 30 anni in ospedale psichiatrico, nei servizi pubblici e soprattutto come direttore del servizio di terapia familiare che avevo fondato nel 1983. Quello di cui mi ero accorto era che soprattutto nelle patologie gravi la costruzione di un processo di ipotizzazione, come dire, basato su pochi dati, era insufficiente per far proprie l'idea di una ristrutturazione del sintomo come qualcosa di deciso dal paziente, dentro un gioco più ampio di lui. E quindi lì è cominciato tutto il mio lavoro sull'ipotizzazione tendente a metodi di costruzione di un'ipotesi plausibile. Dentro questa riflessione dei metodi di un'ipotesi plausibile nel processo terapeutico mi è nato tutto il lavoro sui pilastri dell'ipotesi e poi sulla costruzione del quadrilatero e dei quattro livelli. Ora, questo modello, questo costrutto, si è poi prestato a tutta una manualizzazione non solo del processo di seduta, quindi della scansione, degli stili terapeutici. Noi, quindi parleremo di come costruire una seduta secondo lo stile rabdomantico, come lo chiamo io, e come costruirla secondo uno stile strutturato, no? In qualche modo. E i vantaggi e svantaggi dell'uno e dell'altro stile. Ma poi anche nella riflessione, nella costruzione, poi del collegamento delle informazioni che nascono dai diversi capitoli che si approfondiscono in seduta, è nata anche tutta quella, un insieme di protocolli che ho poi esposto nel capitolo che è uscito nel recente libro sulle manualizzazioni possibili e quindi una serie di domande che ci aiutano a costruire l'ipotesi e una serie di aspetti da osservare, polarità e polarità per polarità e per polarità del quadrilatero. Ecco, quindi, insomma, da lì poi si sono agganciati anche altri discorsi sulle tecniche, sulle tecniche esperienziali piuttosto che sull'integrazione con altre forme di psicoterapia, ma insomma tutto non potremo spiegare sabato. Sono diversi sviluppi che da questo costrutto sono nati. A me sembra che tu abbia usato una parola, mi piace, un'ipotesi plausibile, cioè un'ipotesi che dia senso alla bizzarria, a volte incomprensibile per taluni aspetti, del disagio dell'individuo e del sistema sociale di riferimento. Eh, certo, certo, perché che di per sé il sintomo possa sembrare bizzarro è normale, se no non parleremo di follia, non sarebbe venuta in mente quella distrutturazione. Tipo a te come psichiatra, hai fatto lo psichiatra, ecco. Vi voglio dire, io dentro i comportamenti bizzarri mi sono dedicato a questo per proprio per lavorare su quello che viene pensato come bizzarro, ma che da sistemici sappiamo che bizzarro non è proprio per niente. Però il problema è che quando, e ne parleremo, quando la mente del singolo ha soggetto ai messaggi incongruenti, è arrivato a dissociare dentro di sé e a inventare un sintomo come risposta, poi avviene una dissociazione analoga nella mente sistemica. Cioè anche la mente sistemica dissocia e inventa l'etichetta della patologia, no, e lì si rimettono tutti d'accordo. Uno fa il matto e gli altri dicono sei matto. E tutti fa la famosa coerenza del sistema che si costruisce. Ora far decostruire questa cosa non è facile. E allora lì il metodo di costruzione delle ipotesi più plausibile, ripeto, soprattutto per le patologie gravi e croniche, quindi dove se ristrutturi in un modo credibile, se non ristrutturi in un modo credibile, ti dicono ma dove è stata fuori lei, è diventato importante. Però parlare dell'ipotesi più plausibile e non dell'ipotesi vera ci tengo, perché questa è stata una delle discussioni che faceva anche con Luigi a suo tempo, a cui questo costrutto all'inizio non era molto piaciuto, perché gli dava l'idea che volessi costruire l'ipotesi più vera. E gli spiegavo, no, non è l'ipotesi più vera, è costruire delle descrizioni ben fatte, più complete e più possibile. Io pensavo proprio appunto al nostro maestro Luigi Boscolo, perché tu hai usato la parola cronico, quando si parla di cronos si parla di tempo, ma è venuto in mente ad esempio di quanta tensione ci sia su uno di questi assi del quadrilato che è la linea del tempo. Di sicuro, la linea del tempo sulla polarità del conflitto relazionale risolto è fondamentale, perché... Luigi, il tempo ha fatto delle riflessioni, come dire, per noi terapeuti, eccetera, fondamentali. Certo, certo, perché devi rintrodurre il prima e il dopo e solo dentro la reintroduzione del tempo capisci una differenza che porta poi alla nascita del sintomo. D'altra parte, questo sulle domande per differenza era già dentro l'articolo di ipotizzazione, cicolarità, neutralità, e l'Equipe di Milano è la prima che rintroduce il tempo nella strutturazione dell'ipotesi. La prima pagina di paradosso e contro paradosso parte proprio così. La famiglia è un sistema che nel tempo, per tentativo ed errore, costruisce le proprie regole. No, quindi è proprio... Questo è quello che si apre anche tanto agli Stati Uniti, agli americani, eccetera, l'introduzione alla dimensione del tempo di questi italiani. Eh, sì, vabbè, ma perché loro sono tutti sul pragmatico dell'Ikhet-Nuk, no? Dopo non hanno storia e quindi... L'idea del tempo ci viene dalla filosofia greca, o appunto da Kronos, per cui noi siamo... La storia è diventata una premessa implicita per noi, no? Per cui sta parte... Mi sembra che ci sarà di che incuriosirsi nel tuo seminario. Spero, 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 ma comunque io sono curioso delle domande che mi faranno, per cui questa è la roba interessante. Anch'io, grazie Andrea, buona serata. Ok, buona serata a te, grazie, grazie Enzo.